Nonostante la contemporanea con gli europei di calcio, l'Ensebladark in Pieve Fornavotaro di giovedì sera ha registrato il tutto esaurito. Il concerto, organizzato dall'amministrazione comunale, è stato eseguito con gli strumenti di manufattura del maestro liutaio Giorgio Gigliotti di Belforto di Borgotaro. All'entrata della chiesa erano esposti i violini creati da Giorgio Maccini di Fornavotaro, Luciano Grassani di Ferigara, Gianfranco Steravaglia e Roberto Franchini, tutti allievi del maestro Gigliotti. Un'ora di pregiata musica con Liliana Madei, Marina Mammarella e Sebastiano Eroldi a violini, Antonio Madei al violoncello e Roberto Bonatti al contrapasso. Dopo la musica alle cose che rimonta sono state suonate musiche romantiche da film, più vicine ai nostri tempi e apprezzate dal fortissimo pubblico, in particolare le interpretazioni della violinista Mammarella, alla fine tutti bravi. Un successo non solo per il concerto in se stesso, ma per l'avere abbinato nella stessa serata all'arte del mutaio a quella del musicista. Grazie a tutti.